cesni incredibile cesni cesni ma non è colpa di scegli ma per cortesia ma è un passaggio 25 volte per cortesia lasciamelo dire per cortesia mi lasci dire perché è una squadra modesta questo è un altro discorso non puoi arrivare a giocare in 10 contro 11 e a farti fare gol però il gol è un errore tecnico di tutti c'è una squadra modesta un dettaglio al volo lo puoi la pubblica Michele così rientriamo per come ragazzi io devo farne 4 per angoletti ti hai detto dai ciao a tutti Grazie a tutti.